Lulu Selassie arrabbiata al GF VIP 6, il motivo Il giorno precedente ad ogni appuntamento del grande fratello VIP 6 gli inquilini della casa più spiata d'Italia ricevono i vestiti che dovranno indossare per la prima serata su Canale 5 A quanto pare, a Lulu Selassie è stato recapitato vestito che non le è piaciuto affatto La ragazza di origini etiope si è lamentata parecchio con le due sorelle ed ha minacciato di non indossare l'abito La rabbia della principessa si è conclusa con un consiglio allo stilista che ha confezionato il suo look, questa roba qui fa vomitare. Dovete cambiare mestiere, mi fa schifo davvero Il duro sfogo della geffina Al grande fratello VIP 6, parlando con le due sorelle Lulu Selassie vedendo l'abito destinato alla puntata di venerdì sera è sbottata così No che non me lo metto, ma ci rendiamo conto? Se non mi ci sento è giusto che mi lamenti A me non piace per nulla questa roba, ma non scherziamo Io non posso rovinare la mia immagine, sentirmi io brutta, non mi sento a mio agio Non mi piace a me, fa schifo, fa schifo Chi ha fatto l'abito si deve vergognare perché fa caghe Fa schifo, fa vomitare questo abito Cambiate mestiere I don't care, che me ne frega a me di stis fit Lulu Selassie svela il contenuto della sua borsetta Sempre al grande fratello VIP 6 Lulu Selassie ha svelato cosa c'è all'interno della sua borsetta Cosa c'è qui dentro? Ci sono i miei occhiali amati rosa Trucchi e trucchetti di ogni tipo Far, elastici per capelli Poi c'è anche un palloncino molto carino che ho trovato in giro per la casa È carinissimo c'è scritto I love you Sto aspettando così lo regalo a Manu tra un po' di tempo È a forma di cuore, non è mai stato gonfiato Ho cercato di gonfiarlo ma non riesco Poi ho un pettine che non può mai mancare Se mi restano impigliate le extension No amore, io non le ho Poi ho un gel per brufoli Ha dichiarato la geffina Ho cercato di gonfiarlo ma non riesco Ho cercato di gonfiarlo ma non riesco